Mi chiamo Matteo, vengo da Modena e ho 7 anni, mia mamma si chiama Alessandra e mio papà Claudio e ho anche un fratello di 3 anni che si chiama Francesco. Faccio catechismo, ginnastica, artistica, muoto, inglese, pianoforte. Eh ma fai un sacco di cose eh! E quando giochi? Quando vengo a casa dagli sport e dagli attività. Benissimo. A casa con me ci sono anche i nonni e la zia. La mia materia preferita è matematica. Faccio anche inglese. E oggi dove sei stato? A sciare. Ma dov'è che vai a sciare? Sul cimone, con il fi club io ho nato. Sì? E ho fatto un po' di tempo fa ho fatto due gare. La prima sono arrivato terzo e ho vinto la coppa. La seconda sono stato squalificato perché ho incrociato gli sci. Benissimo. E allora adesso cosa ti aspetti per il tuo futuro? E niente. Niente? Ciao!